Con il termometro che scende intorno allo zero, numerose località dei dintorni di Firenze e del Mugello registrano non pochi disagi, soprattutto per quanto riguarda la mobilità. La sala di protezione civile della città metropolitana di Firenze segnala neve sui rilievi a Penninici e nel Baldarno superiore, con quota neve intorno ai 500 metri, e localmente nel fondo valle del Mugello. Si consiglia di tenere un comportamento alla guida adeguato alle condizioni meteo e si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali, neumatici invernali o catene da neve, per percorrere la viabilità provinciale e regionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.